Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi versione natalizia, come vedete ho riesumato questo maglione che mi aveva mandato Bybit qualche anno fa con ancora il loro logo vecchio ma è troppo bello per non tirarlo fuori e ho solo queste occasioni intorno a Natale per farlo e non sembrare un pirla e quindi se ne approfitta. Comunque oggi ci troviamo in una situazione abbastanza tesa. Abbastanza tesa perché di fatto stiamo lato grafico picchiando duro contro un supporto che spero tenga che è quello appunto dei 47.200 dopo lo vediamo e lato fondamentali barra notizie perché tra poco dovrebbe essere alle ore 20 italiane parlerà la Fed e si pronuncerà sul loro piano monetario verso un eventuale rialzo dei tassi di interesse, il discorso del tapering, tutte quelle cose lì e i mercati sono lì un attimino che stanno cercando di capire il da farsi. Qual è il motivo? Ma il motivo è che fondamentalmente alla situazione attuale quindi con i tassi che ci sono adesso le obbligazioni sono pressoché investimenti spazzatura passatemi il termine. Non ci sono quindi tanti investimenti alternativi che rendono bene al di là dell'azionario nonché delle di alcune commodities, materie prime e vuoi o non vuoi cripto perché vanno comunque annoverate. Se i tassi si dovessero alzare ovviamente potrebbero cambiare le cose, potrebbero disincentivare un attimo queste tipologie di investimento per riportare di più verso anche il comparto obbligazionario, il comparto bond e simili. E quindi è un po' quello che sta tenendo in tensione il mercato e bitcoin stesso in quest'ultima ora tra l'altro, in queste ultime ore, ha subito forse un effetto stress di pre-fed, prediscorsi fed, ma non lo so, sono curioso di vedere cosa succederà immediatamente dopo. Io se devo dire la mia sul medio-lungo termine non ci vedo troppo impatto di questi discorsi sulle cripto perché anzi le cripto dovrebbero essere un po' avulse da tutti questi ragionamenti e soprattutto da investitori che vanno a cercare questo tipo di correlazioni e notizie. Quindi io personalmente non credo che sul lungo termine queste cose influiranno. Certo è che i flussi monetari sui vari comparti di investimento sono assolutamente dipendenti anche da queste notizie e quindi sul breve quantomeno potrebbe accadere qualcosa, vuoi per speculazione, vuoi per questo discorso dei flussi che potrebbero cambiare. Sta di fatto che se invece ci soffermiamo a guardare il nostro grafico abbiamo un supporto, come vi dicevo, molto forte intorno ai 47.200. Questo qua che tra l'altro è stato sottolineato di nuovo dalla candela settimanale della settimana scorsa. Poi lo abbiamo, vedete, storicamente deriva da quest'ultimo, oh mamma mia, da qua, da quest'ultima zona di consolidamento sempre sul settimanale e sotto di esso abbiamo l'ultima area 43.200 e l'area di liquidità qua sotto. Dopodiché c'è il famigerato lower low. Quindi è una situazione molto tesa perché se lo perdiamo e quindi andiamo con buona probabilità come target alla nostra area di domanda sottostante abbiamo comunque un equal low che è una cosa che non è che mi faccia impazzire perché dopo un equal low il modo, l'unico modo per mantenere l'equilibrio è andare a fare un equal high perché se dopo un equal low noi andiamo a fare un lower high rischiamo di fare un triangolo a tendenza ribassista. Quindi una sorta di inizio di pattern di distribuzione, il che non mi piacerebbe per niente. Quindi sarebbe molto più rasserenante vedere un higher low e ricominciare andare a cercare il prossimo high che anche se fosse un lower high comunque mantenendo una simmetria tra gli high e i low, quindi higher low e lower high, avremmo comunque una situazione tutto sommato accettabile e più tendente all'accumulazione che alla distribuzione perché l'andiamo ad inserire in un macro che è assolutamente bullish. Tensione quindi devo ammettere perché adesso dobbiamo vedere la chiusura settimanale. Tutto questo si gioca come vedete sul settimanale quindi sarebbe anche possibile andare a pescare liquidità da qui e poi immediatamente assorbire e andare a chiudere qua sopra. Sarebbe anche bullish una cosa del genere per capirci un andamento come quello di questa settimana. Però insomma visto che uno, due, tre abbiamo già dato il mio timore è che se andiamo a picchiare, picchiare, picchiare ancora il rischio è che poi questo supporto cede e non assorbiamo più perché non c'è più domanda. Quindi siamo nelle mani della Fed, abbiamo Fed come si suol dire e vediamo un po' come chiuderemo questa settimana. Al di là di questo adesso direi che possiamo andare a fare la nostra carrellata di notizie e poi a voi la parola per la vostra carrellata invece di domande. Io oggi ho preparato, vi spoilerò già alla grande, la terza puntata del corso di DeFi per principianti. Tra l'altro guardate che figata me lo dico da solo, questo è l'importante, ho anche organizzato il tutto, ce la possiamo fare, tac, il mio canale, tac, eccolo qua, guardate ho organizzato il tutto in una playlist che verrà popolata di volta in volta con i nuovi video, quindi potrete andarli a vedere in ordine esattamente da qua. Io nel dubbio ve la linko, io mi auguro che tutti voi l'abbiate già, ci abbiate già almeno dato un'occhiatina così anche giusto per sfizio, ma io ve la linko qui, tac, e questa playlist la alimenteremo di volta in volta con i nuovi video sempre in ordine così che se qualche amico vi chiede ma sta DeFi carina, ma di che cosa si tratta? Vram, girare il link e dire guardati questo non dovete neanche più stare a spiegare di cosa si tratta. No, scherzi a parte, ci tengo a tenerlo bello organizzato anche perché sarà tanto materiale e voglio che sia il più facilmente fruibile possibile. Questa volta parleremo dei bridge, del cross chain, dei wallet, quindi ci immaginiamo di dover muovere coin da una chain all'altra e ci poniamo le tipiche domande, quindi che wallet usare per ogni chain, quali sono i migliori bridge, devo andare da solana a terra, che cosa faccio, come faccio? Con tanto di tutorial pratici, che so che vi piacciono tanto questi, per ogni singolo bridge. Chiaramente non dall'A alla Z, sennò avviene 5 ore di video, però comunque da far capire ecco come funziona in maniera abbastanza inequivocabile. Quindi state sul pezzissimo perché domani sera ore 19 esce la puntata numero 3 di una lunga serie. Non chiedetemi quanto lunga perché non ne ho idea neanche io, ma ho idea che almeno una decina di puntate ci saranno. Comunque prima notizia, ve l'ho già accennata, il giorno della Fed, rialzo tassi e quant'altro, vediamo un po' cosa diranno e a quanto pare il mercato ha scontato, adesso non so quanto può valere questa cosa, apprezzato il primo rialzo a giugno e per l'intero 2022 quasi tre rialzi. Vediamo. Io sono proprio curioso di vedere effettivamente come andranno le cose e soprattutto la reazione che i mercati avranno. La ripeto, come abbiamo detto prima, le attese di tutti sono che il rialzo dei tassi comporterebbe un attimino di inciampo sui mercati, però mai dire mai, vediamo, soprattutto nelle cripto che ogni tanto sono correlate, ogni tanto decorrelate, non lo so, infatti non mi sto neanche a fare troppe pipe mentali, ecco. Poi un po' di novità, allora Pancake Swap ha lanciato la nuova IFO Cake, me l'avete fatto notare voi, perché io in realtà non ho cake, non utilizzo molto Pancake Swap ultimamente come farm, ma ci ho dato un'occhiata e di fatto è esattamente come l'auto cake, infatti vedete che l'APY è identico, non cambia nulla, quindi voi mettete cake e lui vi fa l'auto compounding, quello che cambia è che vi dà quelli che si chiamano IFO Credits. Cosa sono? Sono una sorta di punti che vi servono poi per qualificarvi e avere un'allocazione specifica alle IFO, che sono i lanci di token, no? Gli initial farm offering. Ogni tanto su Pancake Swap come su altri DEX vengono lanciati dei token dove in sostanza per partecipare occorre andare a mettere liquidità in un pool e si farmano, un po' come i launch pool di Binance per capirci, no? E adesso non sarà più così che magari nell'articolo giustificavano dicendo sì, magari arriva una balena che alla fine prende in prestito un botto di cake e inonda il pool dell'IFO e diventa una balena anche di quei token lì. E hanno detto quelli di Pancake Swap, non ci piace sta cosa, preferiamo che siano gli holder di cake, magari gli holder di lungo termine, a essere premiati e ad avere un'allocazione maggiore. Quindi più a lungo si rimane, e con più cake, chiaramente, si rimane all'interno della IFO pool, più si vanno a ottenere questi IFO credit e alla fine, al momento della famigerata IFO, si avrà diritto ad un'allocazione maggiore. Non mi dispiace come cosa. L'unica differenza con l'autocake è l'unstake fee se si preleva entro 24 ore, che è dell'1%, poi la performance fee è sempre del 2%, quindi non cambia nulla. Ecco, sappiate di non fare dentro fuori, dentro fuori, sennò c'è l'unstaking fee, ma non dovrebbe essere una novità se siete utilizzatori del nostro PCS. Poi procediamo con, passando alla Cefai, non più Defai ma Cefai. L'EDN, che è una delle piattaforme di Cefai che è tra le mie preferite, se mi seguite lo sapete, ha raccolto 70 milioni di dollari di investimento in un round di investimento e ha annunciato che lancerà un prodotto che è unico nel suo genere per ora, che sarà ancora in fase pilota, che è il Bitcoin Mortgage, ovvero un mutuo con collaterale Bitcoin. Effettivamente è quello che pensate, cioè la possibilità per gli utenti di borroare per acquistare una casa con i Bitcoin come collaterale. Quello che le banche prima poi si sveglieranno e faranno anche loro se non vogliono farsi mangiare vive da queste piattaforme fintech, non lo so. Non so cosa stanno aspettando. Sta di fatto che è interessante e potrebbe assolutamente attirare una user base importante perché penso che molti abbiano tanti Bitcoin a disposizione che non vogliono vendere. Quindi la possibilità di ottenere un prestito anche di queste dimensioni senza dover vendere i nostri Bitcoin, quindi tenendoci anche il patrimonio perché poi di fatto quello è Bitcoin, il capitale, credo che sia uno use case estremamente concreto. E basta. L'EDN è tra l'altro una delle piattaforme ideali per fare una cosa del genere perché è super regolamentata, ha sede in Canada, è registrata con la FinCEN americana e la FinTrack canadese, quindi ha tutte le licenze del caso. E molto bene e ovviamente vi devo oscillare, mi sento costretto altrimenti poi non sto bene, vi devo oscillare il mio referral link di LEDN perché c'è una promozione in corso, promozione per cui se depositate almeno 75 USDC o 150.000 Satoshi che è 0,0015 BTC se non erro e li holdate per almeno 15 giorni ricevete un bonus di 50 USDC prelevabili e quindi io ve lo giro. È una piattaforma di Cefai che permette di ottenere una rendita sulle stable e su BTC con tassi tra l'altro assolutamente notevoli perché adesso andiamoli anche a vedere già che ci siamo. Stiamo parlando del save, learn more, andiamolo. Allora 6,25 su Bitcoin e 9,5 su USDC. Su Bitcoin attenzione perché fino a 0,5 Bitcoin dal 6,25 e dopo da il 2,25 quindi magari se si ha una quantità di Bitcoin un po' più grande conviene fare una parte su LEDN e una parte altrove come ad esempio su Crypto.com, BlockFi eccetera 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 eccetera. E basta mentre per USDC non ci sono limiti è sempre del 9,5 quindi niente male. Procediamo con REN che è uno dei bridge come dire più famosi utilizzati che integrerà CRV quindi la possibilità di bridgeare CRV su tutte le chain col quale è integrato non solo CRV ma anche gli LP token di Curve. Tantissima roba questo. Curve e tutto il suo ecosistema tra l'altro sono il pilastro ormai portante della DeFi, gli stable swap di Curve e non solo gli stable swap perché adesso ci sono anche i Tricrypto, tutti gli altri pool ad asset variabili, sono veramente il pilastro centrale della DeFi. Se una piattaforma DeFi vuole avere una certa rilevanza deve creare un suo pool su Curve in qualche modo integrare la sua stablecoin se ce l'ha o comunque avere liquidità, cercare il modo di integrarsi alla liquidità dei pool di Curve. Motivo per cui il mondo Curve, Convex e dintorni ci sto pensando su, insomma, ne approfondiremo su un video a parte perché merita una spiegazione. Volevo farvi solo un piccolo teaser però ecco sappiate che CRV e dintorni sono secondo me dei token da non sottovalutare e CVX anche. Poi torniamo alla Cefai, quindi insomma un exchange a Bybit, c'è il nuovo Launchpad che è Easy, che è un Liquidity as a Service Provider, in realtà è simile a Popsicle, l'ho guardato, si chiama aspettate che ve lo faccio anche vedere, tac, eccolo qua, Izumi Finance e di fatto è un ottimizzatore della liquidità per ora su Uniswap V3. Quindi ripeto, un Popsicle, no? Un altro Popsicle, ma di fatto poi punta ad avere anche altri prodotti, punta ad essere crosschain, ad avere il suo landing, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un progetto secondo me molto interessante, al di là di tutto, ma anche da utilizzare, non solo per il token. Il token è sul Launchpad di Bybit, quindi sicuramente farà il suo solito 10x, io come al solito parteciperò, visto che ho un po' di bit lì su Bybit e basta, quindi non c'è molto da dire. Il risultato degli altri Launchpad è sempre stato bene o male quello, quindi insomma finché si può divertirsi così lo si fa. Le regole sono sempre le stesse, quindi 50 bit in media da detenere nei cinque giorni di snapshot, più se ne ha, più allocazione si otterrà. Questo è quanto. E questa piattaforma invece io credo che la ci giocherò un po' quando andrà live con tutto quanto, perché mi sembra che possa dare anche qualche soddisfazione. C'è anche la possibilità di farmare OneSide, quindi senza impermanent loss, e non è male, non è male. È un aggregatore di varie cose, insomma un asset manager DeFi, una delle varie piattaforme in cui tu agisci lì e lei poi va a fare cose sulle varie piattaforme in giro. Poi un sacco di cose da dire oggi. Cosmos, passiamo al mondo Cosmos. Io ve l'ho detto n volte, non sono ancora esposto a Cosmos, ad Atom, ma per l'anno 2022 sono veramente bullish sull'ecosistema Cosmos. Tra i mille airdrop che ci sono al momento che ci saranno, e quindi che incentivano lo staking, stanno facendo molto bene tutta questa opera, no? Non so se avete notato che su molti exchange avevano bloccato i prelievi di Atom, no? Perché stavano scarseggiando in liquidità, perché tutti prelevavano dagli exchange i loro Atom per metterli in staking per gli airdrop. Ma perché di fatto Cosmos ha creato, sta creando un ecosistema che incentiva molto quello che è il comportamento giusto davvero, ovvero il mettere in staking per mettere in sicurezza la chain. Poi ci sono, adesso stava uscendo, aspettate che visto che ne stiamo parlando, c'è Juno che ha lanciato l'aggiornamento Moneta da poco, che è una chain sempre nel mondo Cosmos, che porta gli smart contract, quindi porta l'interoperabilità. Non, attenzione, la EWM compatibilità, questi smart contract sono scritti in un linguaggio di programmazione che si chiama CosmWosm, che è interno a Cosmos, fa parte di WebAssembly, e ci sarà, c'è anche in arrivo un progetto che punta al porting della EWM compatibilità su Cosmos e si chiama EWMOS e tra l'altro si vocifera che potrebbe, sono quei rumor, no? Sapete, potrebbe fare l'airdrop e quell'airdrop come vi avevo condiviso su Telegram qualche giorno fa, state sul pezzo su Telegram perché vi condivido lì tutte le cose al momento giusto, e nel momento in cui c'è stato recentemente un aggiornamento di Cosmos, quindi si chiamava Vega mi pare, e l'aggiornamento Moneta di Juno era oggi stesso e si diceva che quei momenti potrebbero essere dei momenti catartici per airdrop futuri, e insomma ve l'avevo condiviso per questa ragione, ma al di là di tutto ciò, insomma ci sono un bel po' di airdrop e cose in arrivo su Cosmos, potremmo fare un video dedicato perché magari ne vale la pena, anche il discorso dell'interchain security, insomma tutte quelle cose che avevamo accennato ma mai approfondito più di tanto. Sono molto bullish su Cosmos, perché siamo arrivati qui? Ah sì, perché ho letto questa analisi interessante dell'anno 2020 in realtà, e guardate, questi sono i trasferimenti con IBC, che è l'Inter Blockchain Communication Protocol, quindi il bridging interno tra le chain del mondo Cosmos, e i volumi sono direi decisamente crescenti a partire da giugno. Guardate tra l'altro i protagonisti, chi sono? Vedete Crypto.org, qui abbiamo che spinge sempre di più, poi dunque dunque dunque, osmosis che ha il DEX chiaramente a quello più ampio in assoluto, volevo vedere, farvi vedere Terra, che è in crescita notevole, vedete, tac tac, adesso non c'è dentro dicembre, ma col fatto che Terra è stato implementato, volevo farvi vedere anche in tempo reale magari, perché c'è Map, Map, aspettate, Map of Zones, eccolo, e con Terra implementato, agganciato all'IBC, anche lui sta decisamente popolando il network. Allora, questo è ordinato proprio per IBC Transfers, ma nelle ultime 24 ore facciamo un bel 30 giorni, tac, e vedete che abbiamo osmosis, cosmos, Crypto.org, come vi dicevo, poi Juno e Terra al quinto posto, quindi vedete che sta facendo, cioè l'attività sta crescendo, no, con tutti questi nuovi agganci, quindi assolutamente bene, Crypto.org chiaramente è dovuto anche al fatto del lancio di Kronos, no, tutte queste cose stanno portando sempre a una maggiore integrazione anche del mondo cosmos. Vale la pena seguirlo, quindi non da comprare token o fare cose così alla cieca, ma seguirlo sì, perché studiare e essere sul pezzo non è mai male, anzi, soprattutto quando c'è qualcosa che ci si può estrarre. Poi StakeDAO, ecco, questa è un'altra piattaforma DeFi che ho addocchiato ultimamente, però adesso non vuole collaborare. Vi volevo far vedere, dunque, innanzitutto in due parole, proprio due, che cos'è? Perché altrimenti andiamo lunghi. Se ce la facciamo, aspettate che provo a disabilitare lo shield di Brave. Dunque, ci sono delle strategie in sostanza di gestione della liquidità, che possono essere strategie attive o passive. Vediamo, Deposit and Earn strategies, eccole. Vedete, vi fa vedere varie strategie e queste sono solo quelle passive, ok? Ci sono alcune strategie con opzioni, quindi delle covered call che vengono rollate continuamente, dei put sell che sono il contrario della covered call e così via. Va compreso il rischio, quindi non pensate che questo yield sia assolutamente così e senza rischi. Va compreso perché qua si parla di opzioni, quindi, insomma, non... Don't try this at home, almeno che non sappiate bene di cosa si tratta, ma sono interessanti. Vale la pena comprenderle e conoscerle perché per chi mira a diversificare, ad avere un portafoglio un attimino più complesso, può valerne la pena. Poi, arbitraggi, eccetera, io lascerei sinceramente perdere perché sono molto volatili. Quelle passive sono quelle più semplici, no? Quindi si basano, ad esempio, su Curve, si basano su Lido, su quegli asset che generano interesse e li utilizzano di solito a catena, no? Queste piattaforme fanno una sorta di, come si può dire, ottimizzazione simile a Yearn e a Convex. Taglio corto, magari lo approfondiremo se vi interessa, magari dateci un'occhiata a voi, leggetevelo, guardatelo e le prossime live mi potete far domande ed eventualmente chieder di approfondire. Vi volevo mostrare che su Avalanche, vedete, Avalanche Rush is live on stake DAO, era questo che vi volevo dire, no? E di fatto è stata aggiunta, sono state aggiunte alcune strategie, in realtà una per adesso, bustate con, adesso è calato già parecchio, ma bustate anche con Avax, con le ricompensi in Avax dell'Avalanche Rush. Questa strategia è molto easy, come, cioè da un punto di vista proprio di rischio, volatilità, eccetera eccetera, perché utilizza il 3 pool di Curve, quindi USDT, DAI e USDC, si prende il, l'AV3CRV che è il token LP, questo per capirci, ok? DAI, USDC, USDT, su Avalanche chiaramente, si dà liquidità qui, si ottiene il token LP, il token LP lo si schiaffa dentro a stake DAO e al momento c'è un APY del 41%, abbastanza easy secondo me, no? Chiaramente ci si espone al rischio di Curve e di stake DAO oltre a Curve, questo è un po' come fosse un compounder. E ve lo volevo soltanto dire, poi ci sono anche le bonus rewards proprio grazie all'Avalanche Rush. Poi, 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 ultima cosa, ma non ultima direi, il lock drop di Astroport che è partito. Il lock drop, il lock, il lock, ciao, ciao, buonanotte, acqua, acqua ghiacciata. Lock drop, lock drop, il lock drop di Astroport, oggi è il suo secondo giorno, come funziona ormai penso che l'abbiate capito, l'abbiamo visto n volte e in sostanza si va a dare liquidità su TerraSwap e l'LP poi lo si migra, ok? E qua al momento il risultato, volevo farvi vedere solo i risultati che sono notevoli perché ci sono già 200 milioni di UST di liquidità. Volevo andare a vedere se la liquidità su TerraSwap era stata già diminuita di conseguenza, ma non mi sembra perché non so come viene calcolata esattamente. Sta di fatto che, insomma, sta andando, direi, più che bene. E la fase 1 è il semplice dare liquidità e si farmano Astro, tra l'altro alcuni pool potrebbero avere una dual reward, come ad esempio se non erro Orion, ha annunciato che la fa. Quindi oltre ai token Astro c'è la dual reward con il token Orion. non so se anche degli altri lo facevano. In realtà so che c'erano alcuni in forse, c'erano le proposal sulle varie governance, ma non ho in verità seguito. Io principalmente sto posteggiando Bluna Luna, sì, così se vi dovesse interessare. Luna UST non sono un grande fan di questo token LP per via dell'impermanent loss, ho preferito Bluna Luna, anche se c'è un po' meno di di allocazione di Astro. E poi che altro che altro? Una volta finita la fase 1 ci sarà la fase 2 dove si potrà andare direttamente con gli Astro che abbiamo farmato per dare liquidità al pool Astro UST, oppure se abbiamo degli UST li potremo andare a cacciare lì dentro e poi si lancerà a fine mese. Figata, non vedo l'ora perché è una bomba Astroport. Ebbene, questo è quanto amici miei, quindi ora la parola passa a voi. Direi proprio di sì. Dunque, pa 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 pa, chiedo dove, dove siamo, dove siamo, dove siamo? Sia Astroport faccio all-in sabato. Ci butto la mamma, la ex moglie e il cane. Ma perché sabato? Scusa, ora, ora, ora c'è il lock drop. Lock drop. Attenzione che al, come si chiama, il lock drop gli ultimi due giorni non si può più prelevare più del 50 per cento, mi pare. Quindi consideratelo, ecco, se volete togliere liquidità. Luna biluna non hai impermanent loss? Esatto. Cioè, oddio, leggermente sì, però è trascurabile perché è un po' fluttua luna biluna, però si può dire che è approssimabile a zero. Poi, 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 hai già dato un occhio al progetto Moby Dick? Ma basta con ste shitcoin, vi prego, vi prego per l'amor del cielo. Fati bravi. Luca ciao, su lead non esiste il rischio di essere liquidati con stake di Ethereum, giusto? No, perché è uno staking. È uno staking, quindi tu metti Ethereum e lui ti dà la ricompensa dello staking. Non c'è debito. Non c'è componente di debito, quindi non c'è la liquidazione. Astro cosa? Astro cosa? Niente, niente, dai, torniamo un po' indietro, ne abbiamo parlato. Dunque, 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 qua saltano troppo in fretta le domandozze. Hai letto cosa ha detto la banca d'Inghilterra? No, non lo so neanche se lo voglio sapere, guarda. Posso solo immaginare, posso solo immaginare. Conosci la piattaforma SwissBorg? Sì, ci sto per fare un video. Ve lo sto dicendo da tanto, ma giuro che lo farò, perché mi piace. L'ho fatto un po' di due diligence, ha tutti i numeri giusti, è sicura, regolamentata, quindi la tratteremo. Ci potete commettere. Assolutamente sì. Comprare su crypto.com con bonifici può essere rischioso. Perché? No, direi di no. Direi assolutamente di no. Perché anzi, è uno degli exchange più sicuri in assoluto. È da settimane che cerco di farti questa domanda. Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Abbiate pazienza, ragazzi, ma vedete anche voi quante domande ci sono. Avete notato, no? Immagino. Tu lasci degli ordini piazzati nel caso in cui una moneta dovesse dampare anche solo per poco tempo e riesce comunque a comprare qualcosa? Le lasci tutte le stable a rendita? No, guarda, tendenzialmente non lascio ordini aperti, perché sia vero potrebbe succedere che fa un flash dump e poi rimbalza, ma non me la sento di impegnare capitale per cose che capitano veramente con una frequenza remota. Quindi ci sono dei bot, so, che puntano proprio a queste situazioni, però non fa parte della mia operatività, sinceramente. VET sembrava un buon progetto, sembra non essersi più ripresa, ma è un buon progetto. Non è che se il prezzo cala fa schifo. Cioè, il prezzo è una cosa, il fondamentale è un'altra. E abbiamo fatto anche un video dove l'abbiamo analizzata. Il fatto è che non fa parte di quelle cose in trend, no? Di soliti i prezzi seguono molti trend, metaversi, defy, nft, boom, tutto il resto, frega niente, no? È questo il discorso. News di oggi che Step Finance ha messo a disposizione un fondo di 5 milioni per migliorare l'infrastructure di Solana. Si fa molto ridere sta cosa. Ultimamente è stata saturata un paio di volte, mi pare, Solana ha avuto un attimino di problemi. Ciao Luca, cosa ne pensi del trading automatico tipo Royal Q? Mi puzza un po'. Allora, il trading automatico, quindi i bot e quant'altro, sono assolutamente favorevole. Royal Q sono assolutamente sfavorevole perché è troppo piramidale per i miei gusti. C'è troppa componente piramidale e questo mi fa pensare, a parte che, insomma, ho sentito pareri molto discordanti sull'effettiva validità della strategia che applica e come funziona. Cioè, nessuno lo sa. E mi puzza molto di scam perché c'è il rischio che poi ti vada a fare cose che tu non vuoi con le tue coin e è successo in passato che alcuni bot hanno scammato e hanno pompato delle shitcoin che dall'altra parte erano state vendute da chi ha programmato questi bot in testa ai malcapitati utenti. Quindi massima attenzione quando utilizzate dei bot, non pensate che perché non gli date il permesso di fare il prelievo allora non può fare danni, perché è assolutamente possibile che vi vada a sottrarre i fondi appunto pompando una shitcoin a caso. È successo in passato. Massima attenzione. Allora, 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 allora. Luke, ciao, come si fa a pensare a una risalita con tutta questa forza che mostra l'offerta? Sembra abbastanza evidente che vogliono andare a cercare livelli ben più bassi di 47. Che ne pensi? Grazie. Guarda, in verità è tutto da vedere ancora. L'offerta adesso è dominante, no? Se tu guardi il grafico lo noti che quest'ultima leg down al momento è pura offerta. Però non si sa mai perché qui adesso abbiamo una fase di possibile indebolimento. Guarda quello che è successo qui alla domanda, perché io spero in una cosa simile, no? Lato bullish, lato essere bullish. Se adesso l'offerta si indebolisce, si spegne un po', va quindi a creare delle candele meno ampie, meno aggressive e magari va a creare del sostegno qua sotto, dei pool di domanda, si crea una buona base per poi trovare il low e andare a rimbalzare. Chiaro è che, ripeto, se andiamo a fare un equal low già non mi piace la situazione perché è più difficile, cioè cala la possibilità poi di una ripresa più rapida. Mentre se andiamo a fare una year low, quindi se ad esempio qua adesso assorbiamo e chiudiamo un po' bene e poi rimbalziamo, non sarebbe neanche malaccio. L'importante è proprio quello, no? Andare a fare un low che sia fatto bene, ecco. E fino ad allora non si può trarre conclusioni perché può dipendere da questi fattori, ecco. Il recuperare a rialzo al contrario questo livello sarebbe un segno di inizio dello storno. Quindi storno significa non che adesso pompiamo to the moon e nuovi massimi, ma quantomeno andiamo a stornare un po', pa 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 pa, e andiamo a cercare un nuovo high e vediamo un po' dov'è. Questa è un po' la situazione adesso. Dunque, 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 dunque. Ciao Luca, esiste un modo per trasferire 20 euro in SOL da Binance alla Solana Network. Sono troppo pochi e Binance non mi lascia trasferire sul mio wallet Phantom. Eh, 20 euro in SOL. Eh, non te lo so dire, sai. Cioè, il prelievo minimo è superiore a 20 euro in SOL. Mi viene da dirti di mettercene una decina in più. Non so proprio che c'è anche stare a fare 10.000 cambi e rischi di incasinarti la vita e a spendere più fiche altro per poi brigiarli in giro. Eh, poi. Poi, 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 vediamo cosa abbiamo di bello. Qua sotto. Oh, c'era una domanda bella, ma è salta. Ciao Luca, se credo molto in una coin conviene metterla in un pool con stable. Con stable fai attenzione, eh, perché c'è l'impermanent loss. Quindi se quella coin sale molto, purtroppo vai a erodere il guadagno. Io sinceramente non sono un grande fan dei pool coin stable. Proprio per questo. Perché se tu punti comunque a oldare perché credi in una coin, a meno che non ci sia un APY stellare, l'impermanent loss ti va un po' a erodere il possibile guadagno. Questo è il discorso. Luca, faresti un commento sulla proposal di Daniele Sesta su Sushi? Ho letto un po' i commenti sul forum Sushi. L'annuncio sembra aver spaccato la community. Da un lato centralizzazione più attuale gerarchia di Sushi accusata di complotti. E se lì ci sono un po' di, c'è un po' di politica lì dentro, diciamo. Io tendenzialmente sono abbastanza favorevole, ma perché questa cosa andrebbe a integrare quello che è Sushi, che è un Dex comunque dotato di notevole reputazione, con l'ecosistema di Daniele già presente. Questo non può che migliorarlo. A me non dispiace, ecco, l'idea. Poi sai, sull'effettiva centralizzazione o meno lì, non lo so. Bisognerebbe parlarne perché di DeFi veramente decentralizzate, insomma, non lo so. Ce ne sono poche forse. Sentito mai parlare di Hyperverse? Cosa devo fare io? Cosa devo fare? Dite qualcosa a voi, vi supplico, dite qualcosa a voi. Sono quelle fuffate di di Hyper, Hyperquia, Hyperfund, Hyperdao, Hyperscam, che si reinventano ogni volta con un nuovo nome, ma non cambia la sostanza, ok? Quindi assolutamente distanza massima per quanto mi riguarda da tutta sta roba. Poi, che ne pensi del grafico di CRV? Andiamo a darci un occhio, andiamo a darci un occhio, pam. Allora, 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 dopo il dampone della DeFi Summer, che, insomma, era un po', non so se ve la ricordate, in cui tutto ciò che era DeFi era follemente pompato. Questo è il punto zero, quindi noi tutto ciò che c'era prima non lo consideriamo e adesso vedete che non è messo male, è messo in un trend, oddio, trend forse è una parola sbagliata perché non è particolarmente mobile, no, come coin, però sembra una giga accumulazione, ecco questa, e non mi dispiace come cosa. I fondamentali di CRV, tra l'altro, insomma, ci sono tutti, secondo me, quindi io ho iniziato a buttarci su un occhio e condividerò breve un approfondimento con voi perché penso ne valga la pena. In caso di bear market prolungato potrebbe essere uno di quei token che potrei puntare ad accumulare un pochino, perché no? Perché no? Poi, 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 dove, 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 quanto consigli di loccare gli LP su Astroport? Eh, dipende da voi, cioè dipende da quali LP, da che percentuale di capitale si ha in questo, in questo comparto qua, insomma, tante cose dipende, non si può dare una cosa così generica. Tornando al discorso sul trading automatico, hai qualcosa da consigliare o come capire quali sono validi? Allora, beh, dipende dal tipo di trading, perché il... ci sono quei bot che vanno ad applicare strategie che gli dici tu, però devi essere bravo tu a costruire le strategie, altrimenti, ad esempio, a me non dispiace Bitsgap, che è un grid bot che va a fare un po' di trade, no? Sui range, va a comprare, va a comprare e vendere sui movimenti di breve. Quello lì è per diversificare un po' le varie, le varie operatività, ci può stare, io lo trovo assolutamente sensato. Luca, cosa ne pensi di VWS? La piattaforma top, la coin non top. Non mi piace, è troppo dampabile, lo diciamo da tanto. Che ne pensi di Stader Labs? Mi piace, il liquid staking, i loro pool e quant'altro. E molto molto bene, poi, 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 vediamo cos'altro abbiamo. Discorso Fed stasera, di cosa parlerà secondo te? Vediamo, vediamo, ne abbiamo parlato all'inizio e c'è un po' di tensione nell'aria, ma non lo so, io penso che sul lungo termine non cambieranno molto i fondamentali, non cambiano i fondamentali, ecco. Allora, giorno 15 di looping sul degen box di abracadabra, mi godo il bear market col 70% di rendita tua, ST, grande, grande. Sono curioso, che parametri hai messo? Cioè di leva, di loop, numero di loop e di loan to value, così giusto per curiosità, perché io, a me spaventa un po', perché se depegga verso l'alto, mimo, verso il basso, UST e comunque la liquidazione è molto vicina, c'è un po' di rischio. Non lo so, quindi io mi ricordo avevo fatto una simulazione, mi veniva un 50% più o meno di APY, così, che non è male, non si può schifare, di sicuro. Poi, che ne pensi di uscire del 50% da BTC in UST da mettere su Anchor per prepararsi ad un eventuale bear market aspettando il rimbalzo? ci sono troppe, troppe presupposizioni, c'è quell'errore lì. Attenzione, perché bisognerebbe avere una strategia a monte, no? Non dire adesso sta scendendo, quindi io mi aspetto il bear market, quindi mi vado a fare una cosa, così aspetto il rimbalzo e poi, perché se poi non succede una di quelle cose lì, insomma, come ci comportiamo? Quindi andare a chiudere il 50% di una posizione che è tanto in un solo momento adesso, quindi esporsi a uno specifico prezzo e andare a prendere una decisione solo, presumendo che adesso arriva il bear market, quindi basato su un evento futuro non certo, considera tutti i rischi del caso. Ecco, secondo me l'ideale è non fare mai una cosa così in una botta sola, bam, così, perché comunque l'asset allocation deve essere a monte, no? Decisa a monte, un asset allocation per tutte le condizioni e poi eventualmente delle strategie con segnali specifici da mettere in atto nel momento in cui il mercato dà determinati segni. Questo secondo me è il discorso. Poi, cosa ne pensi delle piattaforme node as a service come strongblock? Che l'è strongblock? Mai sentita nominare? Vediamo, vediamo un po' che roba è, strongblock? sento puzza di scam, sento puzza di scam, vediamo, vediamo, ah, bronze, silver, gold, platinum, no? Che cos'è sta roba? Che cos'è? Create your node now, vediamo. Così, l'odore che sto percependo è quello di scam al momento. Mining? Cos'è? All nodes cos'è? Ragazzi miei, non saprei proprio che dire, non saprei proprio che dire. Non lo so, non lo so. L'iperligo, bronze, silver, gold, di solito sono quelle robe che ti fanno comprare, ti danno il rendimento, tipo cloud mining, quelle altre scammate lì. Non vorrei pronunciarmi in anticipo su una cosa che poi magari non è scam, ma non lo so. Non lo so. Create your node, non se può, non se può. Ah, devo collegare il wallet. Ma magari è anche legit, non lo so. Colleghiamo il wallet, tanto non preoccupatevi, sono tutti i wallet di prova, anche se me li dovessero prosciugare. Vabbè, senti, io li manderei anche al diavolo, abbiamo perso abbastanza tempo. Ethereum, Polygon, Sentinel. 10 strong? Non lo so, troppo complicato. Non conosco, non voglio conoscere. Se qualcuno di voi lo conosce, dite voi, ma non lo so. Ci pensi mai che parte dei guadagni in cripto sono perdite di altre persone? Eh sì, il mercato è così. Il mercato è così. Quindi se qualcuno guadagna, qualcun altro perde. Perché purtroppo, eh, che dire, è un gioco a somma zero. Ti capita mai di schifare progetti senza conoscerli? Così, così per sentito dire. Sì, mi capita spesso, eh. Forse mi è anche appena capitato, no? Scherzi a parte, sì, io sono sempre scettico fino a prova contraria. Cioè, ho sempre questo scetticismo verso tutto, perché ci sono troppi, troppi scam. Quindi, io, ripeto, scettico su tutto, a meno che non vengo proprio convinto del contrario. Allora, no, ok. Avevo visto un altro scam lì e ero già pronto. Da quanti anni è che ti interessi a questo mondo? Dal 2017. 2017. Luke, per favore, scilla il tuo video sul money management, che troppa gente si farà molto male. Il rischio è l'unica cosa che possiamo gestire in questo folle mercato. È vero, è vero, è vero, ma io scillerai tutto il trading consapevole, consapevole, che è un corso gratuito di trading incentrato sul mindset e sulla gestione del rischio che ho condiviso un po' di tempo fa ormai sul mio canale YouTube. A tempo perso, quando andate a correre in palestro, che ascoltatevelo, ne può valer la pena, secondo me. Perché è proprio un discorso di gestione del rischio. Assolutamente sì. Allora, 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 allora. Allora, come pensi, cambieranno le reward da staking con il merge di Ethereum 2.0? E guarda, le reward di staking di Ethereum 2.0 dipendono da quanti mettono in staking. Quindi più persone mettono in staking, più leggermente diminuiscono. Ma non penso cambieranno molto, ecco. Ciao Luca, Astro è dampabile come VWS? Non così tanto, secondo me. perché credo che ci daranno utilità maggiori e poi soprattutto c'è un'emissione più bassa, leggermente più bassa. Quindi non lo trovo così dampabile, ecco. Cioè è dampabile anche lui, soprattutto all'inizio, perché nei primi anni c'è sempre un'inflazione importante. Per Abracadabra basta settare la liquidazione a 0,85. Per UST riesce a raggiungere il 70% di IPA. A 0,85? Cocane. Pensavo più alta. Ciao Luca, hai claimato DAP radar e airdrop di radar. È vero, è vero. Mi aveva scritto stamattina un amico che mi ha detto vai a dare un'occhiata DAP radar e airdrop. Eccolo qua. c'era l'airdrop proprio della coin radar, la loro. Ehm, mannaggia, non mi ricordo dove. Token? Eccolo, DAP radar, radar token. Eccolo qua, vedete? Per, insomma, ci sono diverse utilità. In realtà non sono un grande fan di questo token, ve lo dico sinceramente. E voi collegate il vostro wallet e vedete se siete eligibili. non ho neanche ben capito cosa c'è da aver fatto. Questo non è eligibile. Ah, eccolo qua. DAP radar user che ha utilizzato almeno una DAP su Ethereum negli ultimi sei mesi. Oppure un qualsiasi DAP user che negli scorsi sei mesi... Ah, ha usato almeno dieci DAP su Ethereum. È interessante. Allora questo dovrei... Devo dare un occhio anche agli altri wallet. Comunque, niente, dateci un'occhiata perché ci potrebbe essere un airdrop al quale avete diritto. Vi condivido anche il link. Allora, 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 allora. Vediamo, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ciao Luca, Axie Infinity sostenibile alla lunga. Ma, perché no? Axie Infinity alla fine non è... Non ci sono delle ponzinomics dietro. Quindi, assolutamente. Certo è che i prezzi sono molto gonfiati. Però il gioco è assolutamente più che sostenibile. Volevo iscrivermi a Crypto.com con il tuo ref. Bravo, bravo, bravo. Ma quando clicco sul link poi mi chiede ancora il referral code e la mail che non vedo da nessuna parte. Allora, porco cane, ce l'avevo da qualche parte. Il mio referral code... Dovresti trovarlo, secondo me, nella descrizione dei video di YouTube. Secondo me sì. Allora... Un'occhiata a Eagle e una piccola analisi. Volentieri, volentieri. Eagle. Eccolo qua. Che ho già pompato. Però, però, però... Adesso qua deve... Beh, ha fatto il suo higher low intanto. Quindi molto bene. Vorrei rivederlo qua sopra. Quindi recuperare questa zona di offerta che ha avuto. Vederlo qua sopra e magari vederlo rimbalzare. Tac, tac, tac. Così. Per vedere poi dove va a trovare l'eye. Potrebbe fare un'accumulazione anche lui e quant'altro. Adesso è proprio sotto una resistenza. Quindi non è esattamente il momento migliore per andarlo a... Insomma, per aprire una posizione speculativa. Quello è poco ma sicuro. Un'altra cosa che mi stavo dimenticando di dirvi... Di dirvi, di dirvi... Eccolo qua. È che il nostro nodo... Ops, ho fatto un casino. Ho rimpicciolito la finestra. Vi ricordate che vi avevo detto che ho lanciato il nodo validatore su Desmos per supportare il progetto, insomma, da un punto di vista operativo, no? È la prima volta per me di avere un nodo validatore supportare attivamente una chain e mi piace l'idea. Ho scelto Desmos perché è relativamente facile avere un nodo validatore. Non serve uno sproposito di token. E quindi ho detto proviamoci. E mi è piaciuta molto la cosa che abbiamo ricevuto un sacco di deleghe vostre. In particolare, guardate, che spettacolo. Abbiamo 154 deleghe al momento. E se andiamo a vedere la classifica per voting power non valiamo nulla perché siamo tutti dei pesci piccolissimi. C'è gente con milioni di token. Da solo l'airdrop. Ma da un punto di vista del numero di deleghe, figata che siamo al numero 10. Siamo in top 10. E vuol dire che, insomma, state supportando molto. E la cosa mi piace un sacco. E adesso stiamo pensando, che insomma mi sto facendo aiutare per la parte tecnica, di abbassare le commissioni un po', ricevendo il vostro feedback. vi ricordo che c'è un canale su Discord dedicato, sul nostro Discord, e potete unirvi tranquillamente. È aperto a tutti il Discord. Vi lascio anche il link. Su Discord parliamo di qualsiasi cosa. È il gruppo, no? La chat di gruppo. molti a volte chiedono, ma dove non hai un gruppo Telegram, una chat? C'è su Discord. Quindi unitevi pure. E in sostanza ho creato un canale dedicato proprio, insomma, Desmos Validator si chiama, dove vi aiuto a riscattare l'airdrop e se vi va a metterlo in staking, perché al momento l'APR comunque è interessante. Non si può ancora dampare, quindi non c'è scelta che tenerlo lì. le transazioni costano pochissimo. 0,0001 DSM per transazione. Quindi se vi interessa, se vi va, mi fa piacere, insomma, se scegliete di delegare al nostro validatore e per qualsiasi cosa su Discord si chiariscono i dubbi e domande. Adesso è il momento di vedere due grafico otti, 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 otti. Allora, Bitcoin l'abbiamo già visto, quindi non stiamo neanche tanto a impazzirci. Adesso vedo che stiamo assorbendo un po'. Ve l'ho detto, vorrei vedere un bel settimanale che chiude. O qua dentro sarebbe il minimo, cioè non voglio vederlo chiudere qua sotto, se possibile, e l'ideale sarebbe qua sopra. Cioè se assorbiamo, andiamo a finire qui e chiudiamo qui, spettacolo. E poi sul daily invece non c'è nessun tipo di informazione utile, cioè c'è questa congestione a volumi pressoché zero. Zero utilità proprio, assolutamente poco, poco interessante come cosa, e c'è questo range interno che è esattamente quello settimanale, quindi romperlo a rialzo. Molto bene, sarebbe molto bene. Ethereum, Bitcoin, ETH, BTC. Allora, eccolo qua che inizia a dare segni di vita alla domanda, esattamente sulla zona di liquidità, tac, guardatelo, proprio lì, questo livello, che nasce nel lontano 2018, al momento è il nostro supporto. Un po' di domanda, benissimo, adesso vediamo dove sarà il low, dove sarà il prossimo high, ma ripeto, è un momento, un attimino di storno per le altcoin in generale. Se guardiamo la BTC Dominance, vediamo che, a parte questo sgorbio di volume senza senso, ma vediamo che siamo un attimino in questo punto, no? Dobbiamo vedere se andare su o se ritornare giù. quindi storno, che può diventare inversione di trend, oppure un semplice storno e continuare poi nella sua direzione. Poi, 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 cos'altro abbiamo? La total market cap, che vale la pena sempre guardarla, continua il suo tragitto lower rise, lower lows. Vi ricordate, no? Quello che abbiamo detto, abbiamo avuto un'inversione di fatto di trend, di questo tipo. Siamo passati da questa linea a questa, quindi, oppla, tac, e al momento abbiamo come target più probabili, 2 trillion e l'1,75, 1,12. E, vediamo un po' come reagiamo, perché se andiamo a 1,75, facciamo un equal low, se rimaniamo a 2, facciamo un higher low, soprattutto se rimbalziamo e poi torniamo sopra i 2,4, perché, finché ci gravitiamo dentro, siamo in range, in lateralità, e poi, insomma, c'è da vedere. Questa candela, secondo me, non so se avete visto ieri, coin market cap, no? Ieri sera, che si era buggato e segnava valori folli, molto bello, molto divertente. e molto, 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 molto bene, basta, basta, direi che ci siamo, siamo sul pezzo, altra altcoin, da darci un occhio, AVAX che pompa, tanto per cambiare, ah, guardatelo proprio da qua, anche qua, però c'è da vedere dove sarà l'ai, quindi vediamo, vediamo, troppi se, troppi punti interrogativi, bisogna far chiarezza. Amici, adesso andiamo a sentire un po' la nostra amica Fed, che cosa dirà di bello, e basta, ci aggiorniamo domani con, con i risultati di ciò, con, vedendo cosa, cosa succede, come reagiscono i mercati, io nel frattempo vi farei un carissimo saluto, e vi raccomanderei domani, mi raccomando, di ieri sera tutti i miliardari con CoinMarketCap, esatto, mi raccomando, domani fate i bravi, e sparatevi il corso puntata 3, è gratuito, lo so, è un mattonazzo, ma ne vale la pena, perché così si riesce a capire poi, quello che diciamo durante le live sulla DeFi, ok? Bene, bravi, conto su di voi, vi aspetto sul pezzissimo domani, poi ci rivediamo venerdì in live, poi la prossima settimana ci sono tutte le live natalizie, sarò con gli Avengers, quindi Tiziano, Filippo, Marco, e tutta la compagnia bella, e poi l'altra live con quegli altri pazzoidi di HardroCrypto, MindChart, Emiliano, Ale di CryptoEater, ragazzi, sarà uno spettacolo, veramente uno spettacolo, il top del top, e quindi poi ci faremo gli auguri, eccetera, eccetera, ultima cosa, ultima 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 cosa, oggi è stato vinto questo, abbiamo fatto il giveaway su Instagram, se vi ricordate, se avete visto, e abbiamo il vincitore a cui lo manderò nei prossimi giorni, l'ho estratto tramite un bot, abbiate pazienza, perché mi avete mandato 1030 qualcosa storie, quindi non le ho neanche aperte, vi dico la verità, ho estratto a caso con un bot, e ha vinto uno che ha detto Ethereum, guarda il caso, no, cosa dice, ma, la cosa bella è che ce n'è un altro, adesso, non sto, non vi sto trickando, ecco lì, uno e uno due, e quest'altro lo giveawayiamo la prossima settimana, lo mandate già pieno, lo mandiamo già preconfigurato con un seed che mi sono scritto qui, però, così non appena, no, scherzo, ovviamente, e è stato mandato direttamente da Legger, insomma, sono loro che me li hanno mandati, dicendo se voi fai un giveaway, così sponsorizzato da noi, in qualche modo, perché me li hanno mandati loro, e a me fa più che piacere, insomma, e questo invece lo daremo su Twitter, quindi il prossimo giveaway sarà su Twitter, e mi raccomando, seguitemi, quindi io vi scillotto il link, tac, qua sotto, e no, scherzi a parte, una buona pratica, per non avere dubbi, comunque, che io mi sia davvero scritto il seed, cosa che non è vera, perché ve lo mando sigillato, comunque, voi ripristinatelo un'ulteriore volta, con un seed diverso, quindi lo resettate alle impostazioni di fabbrica, e siete felici e contenti. Amici, io con questo vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito, ringrazio sempre chi si abbona, con Amazon Prime lo potete fare gratuitamente, noi ci vediamo domani col corso, venerdì in live, la prossima settimana, per gli auguri di Natale. Buona serata a tutti, e abbiate fed!